Stacco della macchina, parte come di consueto veloce Provenza, il suo interno per Sentio Vita che però si getta di galioppo all'esterno bene, Patti Jack, poi Polionpitz terza, poi ancora prima curva Provenza leader, in controllo su Patti Jack, Polionpitz terza, poi ancora il 7 di Plutonico, filtrato bene la seconda fila, precedere President Real e in coda al gruppetto Piuma del Nord con Polionpitz che mette la testa fuori dopo 300 metri di gara, Provenza in controllo, Matteo Zaccherini che non vuole rimanere chiuso, esce all'esterno già dopo 400 metri di gara a 400 sul piede l'1.21 per la leader che controlla agevolmente, di fuori per il momento Polionpitz, di dentro Patti Jack a precedere Plutonico e gli altri non varia nulla con Polionpitz che prova ad avvicinare gradualmente la leader che piazza un 15.8 per la seconda curva e allunga il passaggio davanti al tribune, Massimo De Luca in allungo, Pizzi di fuori, di dentro bene Patti Jack e Plutonico che si avvicina con President Real e il Piuma del Nord a chiudere, 15.4 la frazione più veloce davanti al tribune sulla penultima curva, Polionpitz rimane ovviamente all'esterno di Patti Jack che segue sempre la leader, poi Plutonico e gli altri, non varia praticamente nulla per un chilometro abbastanza tranquillo sul piede l'1.19.4 con la leader che accelera, Polionpitz che ha qualche problema ma rimane in quota e viene stappata di dentro bene Patti Jack, Plutonico che va in mezzo della pista a metà della retta opposta quando però la leader accelera di scatto, frazione questa per arrivare ai 400 in 15.6, Provenza in fuga problemi per Polionpitz, all'interno Patti Jack, di fuori Plutonico in buona spinta poi gli altri, metà dell'ultima curva, Plutonico che prova l'inseguimento alla leader che in piena accelerazione, curva percorsa in 15.2, Provenza in fuga, Plutonico l'inseguimento e questo è il tema dei 150 finali, Provenza e Massimo De Luca, training di Carlo Rossi che chiudono ai 100 finali sul Plutonico, poi ancora Patti Jack sul buon finale esterno di Presidente Real, la media di chi vince, comoda 1.19.3 Grazie a tutti, grazie a tutti.